Grazie per l'invito a partecipare a questo incontro che è stato veramente molto interessante, molto interessante anche lo scambio durante i lavori dei gruppi. Insegno, lavoro presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università di Torino e fondamentalmente insegno ai miei studenti come funzionano i farmaci e quando parliamo di trattamento, ovviamente parliamo anche e non solo di trattamenti farmacologici e l'aderenza alle terapie è sicuramente uno dei temi centrali di oggi. Il confronto avuto nei gruppi poco fa mi ha confortato, mi ha illuminato molto sulle competenze, sulla preparazione in termini di aderenza di questo gruppo di lavoro. Quindi passerei a parlare a parlarvi della di come è nata questo mio interesse verso il tema dell'aderenza al trattamento e alle terapie farmacologiche. Io nasco appunto come chimico farmaceutico ma ormai alcuni anni fa sono entrata a far parte degli action group, in particolare dell'action group a uno e poi eh successivamente della società scientifica espacom. Quindi voglio eh contestualizzarvi questa questa mia esperienza perché proprio dieci anni fa eh la eh commissione europea eh aveva ha lanciato eh un l'iniziativa di un parternariato per l'innovazione che ha proprio come tema l'invecchiamento sano e attivo della popolazione perché era considerato ehm una era considerata una una sfida prioritaria eh per la società all'interno di tutti i paesi europei proprio quello di cercare di ehm vivere gli ultimi anni della vita ehm non in una condizione di malattia ma possibilmente in una condizione di eh salute e di mh con un ruolo attivo all'interno della della società. Pertanto eh questa iniziativa appunto ehm lanciata nel 2011 eh ha raccolto in realtà tutti gli attori importanti a livello della ehm eh sia a livello europeo che a livello nazionale che a livello regionale e ehm nasce anche con l'intento di favorire eh l'innovazione di favorire la trasformazione digitale all'interno del dell'invecchiamento sano e attivo e si pone eh come sfida eh nell'arco di una decina d'anni proprio con il la conclusione diciamo della della sfida della challenge nel duemila e venti di aumentare di due anni la vita media in salute dei cittadini europei ovviamente tutto questo non faceva al al dieci anni fa i conti con quella che sarebbe stata l'attuale pandemia ma ecco diciamo che l'obiettivo di questa di questo partenariato non era solo quello di migliorare la qualità di vita e la salute dei cittadini europei ma anche di favorire la sostenibilità dei sistemi sanitari sociosanitari e anche di eh creare un terreno eh fertile per ehm creare nuovi mercati quindi per lo sviluppo economico per lo sviluppo industriale e basti pensare al tema della silver economy. Ehm questo partenariato eh si fonda su due pilastri principali che sono appunto gli action groups e i reference site e che di cui adesso vi dirò ancora farò una brevissima descrizione e mh all'interno poi del partenariato sono state lanciate molte iniziative di lavoro trasversali che hanno portato dei risultati importanti ma mh per esigenze di tempo non riuscirò a mh a parlarvene nel nel dettaglio perché preferisco invece eh raccontarvi eh che cosa sono che cosa sono stati in questi dieci anni gli action groups e mh anche i reference site. Ehm gli action group sono hanno costituito eh rappresentano una comunità una comunità di eh partner eh che ehm si sono candidati autonomamente ad entrare a far parte della comunità eh attraverso una dichiarazione di impegno una dichiarazione di commitment ehm impegno a lavorare insieme eh su temi specifici ovviamente ehm sempre in relazione all'imvecchiamento sano attivo ma appunto eh gli action group sono stati più di uno sono stati sei in tutto quindi hanno lavorato su temi specifici all'interno dell'invecchiamento sano attivo come tema generale eh chi i partner che entrano a far parte di questa comunità eh lavorano insieme condividendo eh conoscenze esperienze eh valorizzando avendo trovando anche modo di valorizzare delle esperienze delle buone pratiche locali o nazionali e lavorando insieme vanno anche a identificare quelle che sono quelle carenze lacune eh da mh riferire poi eh collettivamente e ehm di cui poi la Commissione Europea dovrà poi tener conto nella programmazione successiva. Invece i reference site eh raccolgono maggiormente ehm istituzioni come le regioni, le municipalità, gli enti, le organizzazioni sanitarie e vanno a costituire un vero e proprio ecosistema. Non lavorano eh di suddivisi, divisi per eh ambiti tematici eh e mh raggruppano tutti i partner che possono identificarsi nella famosa quadrupla elica eh costituita dalle eh autorità governative eh dalla società civile eh dall'accademia, dall'università e dall'industria. Come vi dicevo eh gli action group hanno lavorato su temi eh diversi e eh in totale quindi si sono creati eh sei gruppi di lavoro, sei tavoli di lavoro e uno in particolare eh l'action group a uno ha avuto come mh un focus sulle sull'aderenza alle prescrizioni. ehm per entrare a far parte di degli action group eh sono sono ci sono state diverse chiamate tre eh call for partners eh in totale hanno risposto più di mille trecento partner attivi eh più di mille commitments e la la storia in particolare che riguarda, che ci riguarda e che nel duemila e tredici la regione Piemonte si è rivolta ad alcuni gruppi eh della eh dell'Università di Torino e eh il Dipartimento di Scienze e Tecnologia del Farmaco ha deciso di rispondere a questa call presentando un commitment che eh aveva appunto come tema principale proprio la qualificazione della politerapia, della polifarmacoterapia eh nella popolazione anziana. Eh queste nelle due slide successive vi presento due infografiche che sono state appunto recentemente ehm eh prodotte proprio mh dalla all'interno eh di un progetto di un progetto eh sulla del del parternariato eh per l'invecchiamento sano e attivo eh proprio per riassumere i risultati ottenuti i lavori portati avanti in questo decennio di attività e in particolare in questa vedete ehm tanto i numeri che vi ho già presentato, le aree tematiche di lavoro eh su cui ehm gli action group hanno lavorato e quali sono stati eh i gli stakeholder principali, non solo appunto l'accademia, ma eh ancora di più le autorità pubbliche, le organizzazioni sanitarie, le aziende, le imprese, gli investitori eh le associazioni dei pazienti e di end user. Per quanto riguarda invece i risultati ottenuti dal dal dai lavori degli action group questi sono vanno dai dalle pubblicazioni scientifiche alla creazione di network che hanno poi potuto partecipare a bandi competitivi e ottenere finanziamento per progetti, la creazione di piattaforme, l'ideazione e la progettazione di nuovi servizi per i cittadini che ehm hanno poi potuto essere ehm esportati come modelli e anche attività di training e programmi di formazione e ehm di educazione. Ehm venendo eh ai lavori in modo specifico dell'action group a uno eh come vi ho detto il tema eh principale è stato quello dell'aderenza e mh non soltanto dell'aderenza ai farmaci ma eh quindi alle terapie farmacologiche ma come ehm recita appunto la eh definizione che eh ha dato l'Organizzazione Mondiale della Sanità ehm per aderenza non si intende soltanto l'aderenza ai farmaci ma l'aderenza alle raccomandazioni appunto alle indicazioni che possono andare dalla eh da quella di seguire una dieta a quella di cambiare un proprio stile di vita nel momento in cui eh l'attuale stile di vita può essere un problema per la salute. Quindi tutte le raccomandazioni che vengono concordate con i sanitari. Ehm nell'ultimo triennio eh di attività l'action group ha lavorato ehm prevalentemente su questi cinque eh cinque general objectives eh dove troviamo tutte le parole chiave importanti per eh definire il tema dell'aderenza perché non c'è soltanto la promozione dell'aderenza o il tema della gestione o della ehm del gettare le basi per quelle che sono le scienze correlate allo studio dell'aderenza ma ci sono appunto vi dicevo altre parole chiave fondamentali come l'uso dei big data è un campo questo in cui eh sono in realtà disponibili eh eh una quantità enorme di informazioni che riguardano ehm prescrizioni ehm erogazioni di farmaci da parte dei ehm ad esempio delle farmacie di comunità e elaborare correttamente questi dati può permettere di ehm avere un quadro del tanto dei modelli prescrittivi quanto dei comportamenti di aderenza o meno nei confronti di alcuni specifici trattamenti farmacologici e quindi si possono attuare delle politiche di prevenzione delle conseguenze della non aderenza. Altre parole chiave sono il patient empowerment ovviamente eh l'educazione del paziente, l'interdisciplinarietà che è una caratteristica fondamentale per ehm la costituzione del gruppo di ehm professionisti sanitari che si prendono in carico il problema della polifarmacoterapia e della gestione dell'aderenza ai alle prescrizioni e poi il tema dell'ICT della di come i dati possano eh se integrati correttamente supportare la decisione clinica. E questo per quanto riguarda i lavori dell'action group ma molti coordinatori dell'action group a uno molti membri dell'action group a uno sono in realtà anche membri di una eh società scientifica che è l'ESPA-COMPE. Allora volevo raccontarvi brevemente anche che cosa fa ESPA-COMPE. Eh è una società scientifica nata eh in precedenza rispetto alla eh a un paio di decenni di vita in più rispetto agli action group e il suo eh focus è soprattutto sulla ricerca cioè sulla promozione di una ricerca ehm di punta in ehm in ambito eh di eh aderenza i cui temi sono un po' quelli che sono riportati qua cioè cercare di capire mh studi di mh farmaco utilizzazione come sono usati in realtà i farmaci dai pazienti quali possono essere le cause della non aderenza quali sono eh le conseguenze cliniche ed economiche della non aderenza e come intervenire per eh migliorare la situazione e come traslare i risultati della ricerca in politiche eh nella nelle politiche sanitarie nelle politiche eh che siano possibilmente evidence based. ESPA-COMPE è un acronimo che viene da questa ehm da questo nome european society for patient adherence compliance and persistence ma in realtà poiché non esistono ehm a livello mondiale altre associazioni simile eh simili anziché european direi che si sta andando sempre più verso una eh un ampliamento del dell'arruolamento di ricercatori anche da altri continenti e devo dire con un certo orgoglio che eh la presidenza di questa ehm di ehm eh di questa società scientifica nell'anno in corso è italiana in particolare è stata assegnata ad una eh collega dell'Università di Napoli. Eh di che cosa si occupa brevissimamente ESPA-COMPE? Prevalentemente di ricerca mh e eh tra i tanti progetti uno in particolare è stato dove ha avuto veramente un significato importante ed è quello di creare una tassonomia eh cioè mh cercare di eh approfondire il concetto di aderenza e ehm indicando quindi e scegliendo quindi i giusti termini la giusta terminologia per definire il problema dell'aderenza e della non aderenza. Questo lavoro di tassonomia è ehm in realtà ancora in corso perché si sta portando avanti la traduzione dall'inglese eh di questa terminologia nel modo più corretto possibile attraverso eh dei eh un lavoro di che è ancora in atto eh in diversi paesi tra cui anche l'Italia quindi è in corso anche questa attività. Ehm ESPA-COMPE si occupa si è occupata anche eh se in misura minore di educazione eh promuovendo un corso interprofessionale quindi rivolto agli operatori ai professionisti sanitari ehm ma eh forse ecco manca un giusto spazio da dare all'educazione rivolta ai pazienti. Ci si potrebbe domandare se è veramente così importante fornire ehm un'educazione ai pazienti. No non me lo domando è chiaro e evidente con il tema con il nel seminario di oggi però mh perché mh che qual è il comportamento dei eh pazienti nei confronti di una raccomandazione e mh mi soffermo ehm maggiormente in sulla raccomandazione sulla prescrizione di farmaci. Eh come vi dicevo ho accennato brevissimamente all'importanza della tassonomia perché eh nel momento in cui ehm di eh nel momento in cui un paziente eh riceve una prescrizione ehm il il suo comportamento ehm può essere molto diverso. Ehm ad esempio eh i quattro concetti fondamentali che ci permettono di definire il comportamento di un paziente sono riportati su questa linea del tempo che spero sia abbastanza chiara. Dal momento della prescrizione al momento dell'inizio eh della terapia ehm può intercorrere del tempo non è detto che questo eh che la eh la messa in atto della eh raccomandazione venga immediatamente ehm eh eh recepita e quindi eh attuata. Mh così come eh se noi andiamo a considerare il tempo della durata o meglio la durata della prescrizione farmacologica oppure no ehm possiamo vedere che ehm può esserci un'interruzione precoce ad esempio della terapia può esserci quindi una durata o persistence dell'attuazione della terapia che è ben diversa rispetto alla durata della prescrizione e anche l'implementazione della dell'indicazione della della delle prescrizioni può essere variabile. Ehm mi soffermo mh pochissimo per per ovviamente per ragioni di tempo non è questo il tema centrale ma eh studi di aderenza permettono di fare una profilazione anche del del comportamento dei pazienti. Ehm questi sono risultati di alcuni studi riportati in questa pubblicazione e risulta evidente ad esempio seguendo appunto su una linea del tempo che mh rispetto a quello che è il la l'inizio o meglio la pre il momento della prescrizione tra il momento della prescrizione e il momento dell'assunzione della prima dose di farmaco possono passare anche molti giorni. Ehm e eh i puntini che vedete qui riportati eh corrispondono appunto alle singole assunzioni di un farmaco da assumere due volte al giorno. quindi il comportamento del paziente è eh qualcosa di estremamente personale e ehm può avere ehm eh una molte giustificazioni molte eh spiegazioni ma innanzitutto eh andrebbe seguito proprio monitorato il comportamento del paziente stesso nel paziente che è riportato il cui comportamento il cui profilo di aderenza è riportato nel eh secondo grafico si vede chiaramente che l'attuazione la ehm il rispetto degli orari ad esempio nell'assunzione del farmaco è eh molto confuso e molto è sicuramente ottimizzabile. Eh ci sono ovviamente pazienti eh virtuosi ma come in questo caso sentendo evidentemente sentendo eh ormai alle spalle il periodo della malattia decidono di interrompere precocemente eh la loro eh terapia. Quindi ecco questa questo comportamento ma quanto realmente pesa nella popolazione? ehm allora le gli studi mh sono fatti su varie fasce di popolazione ma eh la ovviamente gli studi che riguardano la popolazione anziana over 65 dove eh la mh percentuale di soggetti che soffrono di eh patologie croniche e quindi vengono trattati attraverso ehm trattamenti complessi, politerapici eh e mh più elevata eh allora è noto che eh nell'arco di un anno circa il sessanta per cento delle della popolazione eh manifesta una scarsa aderenza mh o una sospensione, un'interruzione o una povera, una scarsa implementazione della terapia cambiando orari quindi facendo, saltando alcune dosi per terapie eh scusate per patologie importanti come depressione, ipertensione, diabete, osteoporosi e quali sono le cause? Le cause eh sono molteplici, vanno dall'eccessiva complessità alle caratteristiche del farmaco, a deficit eventualmente anche del paziente stesso ma certamente ha un ruolo importante la scarsa informazione. Così come i fattori che migliorano l'aderenza possono essere diversi, certamente anche la ehm formulazione del farmaco può avere un un peso importante ma ehm gli studi dicono che un ha un ruolo molto importante cercare di incidere sul comportamento del paziente, educando il paziente, quindi ehm la è già stato detto l'importanza della dell'health literacy e ehm come già detto anche nel gruppo di lavoro a cui ho partecipato l'importanza dell'attenzione e dell'ascolto nei confronti dei pazienti, non solo i pazienti anziani ehm andando proprio a a comprendere quelle che sono le loro difficoltà, le loro difficoltà, quegli alle volte quegli effetti collaterali, non solo gli effetti gravi ma quegli effetti collaterali sotto soglia che possono peggiorare la qualità di vita e quindi a lungo andare a determinare una caduta eh una riduzione del eh dell'aderenza terapeutica. Allora ehm qual è la situazione oggi eh sicuramente eh sui due bracci di questa bilancia ehm pesa molto di più oggi la scarsa informazione, la scarsa consapevolezza nei pazienti della tanto della malattia quanto della cura e eh di conseguenza anche come c'è stato detto una scarsa fiducia nei confronti della terapia, del trattamento, della raccomandazione più in generale e anche del del medico. Eh pesa ancora troppo poco questo mh su questo piatto di questa bilancia l'educazione dei pazienti, le flitterasi e l'attenzione e l'ascolto dei pazienti. E per concludere sicuramente come già stato detto è importante migliorare la comunicazione. Eh migliorare la comunicazione con il paziente mh certo da parte del medico ma nel complesso come è stato detto mh in modo molto generale e mh perché la comunicazione del messaggio rivolto al paziente sulla raccomandazione sulla prescrizione che dovrà seguire deve essere quanto più possibile chiara e con il linguaggio eh adatto ad essere ehm ascoltato e recepito da parte eh del paziente e per mh così ehm salutarvi eh eh voglio ricordare un paragone che eh proprio durante una conferenza eh del congresso ESPA-COMP di eh di un paio d'anni fa quando riuscivamo a fare in presenza a questi congressi eh un medico tedesco ehm fece dicendo appunto che la comunicazione con il paziente non doveva essere ehm quella di non so de dell'oracolo di uno sciamano eh perché in quel caso è comprensibile non è non deve essere un messaggio da comprendere eh ed è un rituale magico ma eh sempre di più eh bisogna porre attenzione al fatto che non di rituale magico si tratta ma invece di indicazioni che siano indicazioni operative che siano indicazioni che spingono ehm sulle giuste leve del paziente per fare in modo che sia il più possibile aderente alla terapia. E grazie a voi tutti per l'attenzione.